L'informazione di casa che ha alzato un muro dalle pressioni altipartite hanno la migliore difesa fin qui del campionato. La difesa della squadra di casa si è rivelata spesso e volentieri un rebus irrisolto per gli attaccanti avversari. Prendono pochi gol, meno di tutti nella competizione e nel calcio spesso, non sempre, però spesso questo equivale a vincere le partite. La parata del portiere qui. Bianchetti. Grande tempestività di questo intervento. Doria che prova a sfruttare le corsie laterali. Può andare nello specchio. Era buona l'idea.